Lo Stato pretende il doppio dalle province per la partecipazione alla spesa di finanza pubblica. In Sicilia l'assessore Bruno Marziano lancia l'allarme fallimento. Gero Miciche. Le ex province siciliane sono a rischio fallimento. Non solo la riforma in Sicilia non è stata attuata e i liberi consorsi gravitano ancora in una specie di limbo, in attesa che a maggio vi siano finalmente le elezioni per assegnare una guida politica agli enti. Adesso si scopre che da un lato lo Stato e la Regione tagliano i fondi e dall'altro lo Stato stesso chiede un salasso alle ex province, mettendo a rischio i pochi servizi ma essenziali che le province ancora svolgono, come l'assistenza ai disabili. Ad esempio nella provincia grigentina il servizio di assistenza scolastica a circa 200 studenti con gravi disabilità è stato ridotto da 15 ore, come è stato fino a dicembre scorso, a 6 ore alla settimana. L'ex provincia di Agrigento ha a disposizione pochi fondi e dunque ogni alunno usufruirà di 6 ore settimanali di assistenza che non sono nemmeno il minimo garantito dalla legge. Ogni anno le province siciliane versano nelle casse dello Stato un contributo per il risanamento della finanza pubblica nazionale. Nel 2015 sono stati 65,8 milioni e quest'anno Roma pretende quasi il doppio, 131 milioni. L'assessore regionale Bruno Marziano lancia l'allarme e afferma a causa del raddoppio di questa tassa a carico delle province non saremo più in grado di garantire i servizi scolastici per i disabili e la manutenzione degli immobili in cui hanno sede le scuole. E l'assessore spiega i dettagli. I liberi consorsi che stanno sostituendo le province si alimentano sostanzialmente attraverso l'incasso delle RC auto che vale circa 140 milioni all'anno. Ma se lo Stato in un'unica soluzione chiede di versare a Roma 131 milioni di fatto taglia tutto il principale finanziamento. Ciò equivale a mandare in dissesto questi enti. Per essere chiari se lo Stato conferma questo colpo da KPO sulle province non saremo in grado di mantenere i servizi bus scolastici per i disabili, l'assistenza ai sordomutti e i ciechi nelle ore di lezione e il doposcuola. Dovremmo tagliare anche le attività ludico-ricreative e non ci saranno fondi per le manutenzioni. Le province non avranno i soldi per farle e neppure la regione potrà intervenire.